ok l'hai visto lo so ho visto questa è una bella spinta bravissima brava ma sono quasi le otto quindi ora voi andate a trave dai meglio testa non ti ne hai fatti? dai Chiara pennelli dritti un po' meglio un pochino eh meglio ti manca di bravo meglio molto meglio dritta e arrivo ok brava Chiara bravissima apro bravissima bravissima brava meglio e ok bravo ok wow brava meggio meggio bravo brava 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 è un po' meglio bravo 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 10 10 riesco la spinta attenzione comunque la testa Ok, schiaccia bene Lola, dai dai, dai, no, 10 e stop, ok, pronti? Vai che è caldo, meno male, è freddo Giorgia, meno male, stai bene? Meno male. Parallele, travi o voltigi? Voi volete iniziare? Voi, e mettete i tappeti laggiù anche. Quali erano i tappeti laggiù? Il tappeto verde, il tappeto sotto questo, quello, 20, quello e un altro, per fare un data flick dove hai fatto tavola. E poi i tappeti laggiù? Tappeto verde. Ok. E riascuno ci sia oltre. Ok. Ok. Non ha dei tanti tutti questi tappeti. Ok. 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 Ok.